Ciao a tutti e bentrovati 101 secondi Viola di oggi. Devo dire che una volta tanto la Fiorentina con un comunicato cerca di mettere chiarezza e lo fa in modo opportuno e serio sulle tante voci che stanno circolando attorno a Paolo Sosa perché se è vero che fino a qualche settimana fa qualche dubbio ci poteva essere, qualche indiscrezione ci poteva essere il muso lungo di Sosa poteva dar adito a interpretazioni diverse è anche vero che oggi parlare di un Sosa che trasloca casa per tornarsene in Portogallo è davvero una cosa alquanto particolare Sosa se non avesse accettato il mercato della Fiorentina il giorno dopo la chiusura del mercato avrebbe magari potuto anche fare immaginare e pensare una mossa del genere, se non l'ha fatto non si dimetterà certo adesso, non si dimetterà certo il giorno prima di una partita importante e comunque sia la Fiorentina e Sosa su questo sono stati sempre chiari si va avanti a braccetto assieme, Sosa non ha più risposto a domande sul mercato, si è limitato di pensare solo e soltanto al campo e quindi dobbiamo anche essere onesti, dargli credito e credere alle sue parole poi quello che accadrà nel futuro, figuriamoci, il calcio cambia da una partita all'altra, a volte anche da un giorno all'altro ma oggi Sosa è e rimane l'allenatore della Fiorentina, oggi Corvino e la proprietà confidano molto in questo allenatore poi il futuro sarà tutto da scrivere anche a seconda naturalmente come sempre dei risultati sportivi che ci saranno sul campo però queste voci da adesso in poi è giusto accantonarle davvero e in modo definitivo a domani con i 101 secondi viola, un saluto da Marco Dell'Olio